Tante vittorie per un personaggio come Amri. Una vittoria è sicuramente quella di non arrendersi mai. Parleremo di una manifestazione che ci sarà fra poco dove l'Italia sarà sicuramente protagonista. E per farlo abbiamo in studio Marco Iannuzzi che è tenente colonnello, è un campione, è un atleta, appartiene al gruppo sportivo paralimpico della difesa e ci parlerà degli Inventus Games ma non solo. Intanto benvenuto. Grazie, grazie mille. Allora io vedo una bandiera che potrebbe essere anche un qualcosa di scontato andando a rappresentare l'Italia però insomma i giorni in cui qualcuno la oltraggia come abbiamo sentito anche nel telegiornale ecco che cosa rappresenta oggi questa bandiera per lei e per i suoi compagni di squadra? Mi sento di dire che è molto più di un simbolo. Noi giuriamo fedeltà e quando lo facciamo lo facciamo perché ci crediamo. Ci viene chiesto spesso e volentieri di difendere il tricolore e alle volte qualcuno di noi lo fa anche con gesti estremi. Per questo l'oltraggio magari non viene ben metabolizzato da persone che ci credono. Posso capire come si sente ad aver sentito queste notizie? Sì, diciamo che facciamo difficoltà a metabolizzare questo tipo di notizie perché appunto ci crediamo, ci crediamo realmente e crediamo ancora nel nostro paese e in tutto quello che rappresenta. Però sono convinto che questi sono dei gesti appunto di singole persone che comunque sia rimangono appunto circostretti a loro. Ecco ma questa in particolare oggi perché oggi c'è stato anche il giubileo dei militari. Sì. Quindi la squadra è stata con gli annuzzi in testa dal Santo Padre e questa bandiera? Questa bandiera è stata benedetta dal Santo Padre. Quindi Papa Francesco abbiamo avuto questa bellissima opportunità e ho chiesto quando si è avvicinato. Ho spiegato prima di tutto chi fossimo e cosa stavamo per fare e poi ho chiesto una benedizione perché questa bandiera ci è stata donata nel 2014. Stiamo vedendo delle foto proprio dell'incontro di oggi. Ecco lo vedete il colonnello Iannuzzi a colloquio col Santo Padre. Ho avuto un'emozione fortissima perché io ho avuto l'opportunità di incontrare Papa Vuitila quando ero ancora in fase acuta del mio incidente, post-incidente e avevo fatto una promessa all'epoca. Avevo detto che la volta successiva che sarei tornato a incontrare un Papa sarei stato in piedi e quindi oggi è stata la chiusura di questo cerchio. E' stato estremamente emozionante. Poi Papa Francesco è una persona... Ci stava dicendo della bandiera ma torniamo naturalmente a... Che era una bandiera che rappresentava questa... Una bandiera che ci è stata donata nel 2014 dal Presidente della Repubblica. Prima della prima edizione degli Invictus Games che si sono tenuti a Londra, a settembre. Adesso c'è stata data dal Ministro della Difesa, la Senatrice Pinotti. E quindi è con orgoglio che noi portiamo questa bandiera che è sempre lei, poi viene messa in una teca. Quindi per noi, ripeto, è molto più che un simbolo. Adesso è diventata poi con la benedizione del Santo Padre qualcosa di ancora più prezioso da portare al segno. Vi dà anche responsabilità, oltre a quella che voi in modo autorevolissimo e degnissimo rappresentate in tutto il mondo quando andate per azioni importanti. Diciamo subito che ci saranno questi giochi mondiali, li spiegheremo dall'8 al... Fino al 14 maggio. Ecco, quindi si parla di Stati Uniti, quindi vedremo tante cose. E torniamo all'incontro col Santo Padre, perché appunto cosa vi siete detti? Cosa ha detto Papa Bergoglio? Beh, ripeto, inizialmente è stato difficile vincere l'emozione, perché ci tenevamo tantissimo a questo incontro. In più, ho spiegato appunto che eravamo dei militari che hanno subito delle lesioni permanenti, sia in servizio che in addestramento, e che adesso rappresentiamo il nostro paese, oltre che con uniforme, anche con una tuta ginnica. E che andavamo a fare questi Indictus Games, che si terranno appunto ad Orlando, e che avremmo dato il massimo per difendere il tricolore, ma non solo, perché poi non è solo la questione della competizione o delle eventuali medaglie, ma è lo spirito con il quale si partecipa a questi giochi che è straordinario, perché ti mette a stretto contatto con altre persone che hanno avuto più o meno il tuo stesso percorso di vita, e ti accorgi che appunto non sei solo ad affrontare determinate situazioni, e ti dà ancora più voglia e più forza di affrontare le difficoltà che hai giorno per giorno affronti. Ecco, lui ha detto qualcosa? Lui ci ha fatto un grosso in bocca al lupo, e ha detto, sono sicuro che farete comunque, vada, sarà una bellissima esperienza. Sa che è attento molto allo sport, anche oltre che alle storie di coraggio, di vita e di partecipazione, è attento molto allo sport. Anche il nostro ministro aveva fatto una bella lettera di presentazione, quindi Papa Bergoglio sapeva perfettamente chi fossimo, e addirittura c'è stata una piccola parentesi dove lui aveva detto, se non sbaglio avrete nove discipline, e io ho detto sì, in realtà sono dieci, non mi ho sentito di dire che c'era... Si è sbagliato veramente di pochissimo. Però ecco, era preparatissimo, insomma, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Quindi tante discipline... Oh, vogliamo un attimo, e parleremo molto di questi giochi, ci sarà anche una... grandi personaggi che diranno delle cose, tutto da vedere, cosa anche di pochi minuti fa, quindi ve la faremo vedere quasi in anteprima. Quando è stato da Papa Bergoglio ha detto, tornerò in piedi, e l'ha fatto. Vogliamo tornare un attimo al momento che ha condizionato la sua vita, che è successo, quanto siamo, a che epoca risalda? È gennaio del 2000, il 20 gennaio del 2000 io avevo vinto il concorso appunto da ufficiale pilota per l'aeronautica militare, ed era in una fase di addestramento, normalissima fase di addestramento. Quel giorno, mentre decidavamo con il mio istruttore di volo che cosa fare in quella missione di volo, si è spento il motore, si è spento un motore per un guasto tecnico, l'abbiamo capito solamente dopo ovviamente, e in quel momento dovevamo decidere che cosa fare, ogni pilota di aeronautica militare la prima cosa che pensa è fare meno danni possibili a terzi e a se stessi ovviamente, quindi abbiamo deciso di non lasciare il velivolo e di andare a fare un atterraggio di emergenza, anche perché era assolutamente governabile. Dove stavamo in zona? Zona Sabaudia, decollavamo al settantesimo stormo di Latina. Abbiamo deciso di fare questo atterraggio di emergenza su un campo di erba che è servito per mettere le ruote a terra, quindi come dire, è andato tutto molto bene, l'istruttore è stato brevissimo che ha portato l'aereo nelle migliori condizioni a terra. La sfortuna vera e propria è stata quella che questo campo di erba finiva con una scarpata di 17 metri e noi siamo caduti in questa scarpata, subendo di fatto un forte impatto alla schiena, quindi abbiamo avuto una lesione al midollo spinale. Entrambi? Sì, e l'istruttore ha avuto anche un trauma cranico, un trauma toracico, perché lui giustamente doveva fare delle manovre in più per portare il velivolo a terra, quindi non era stretto con le cinture, però l'adrenalina dell'incidente a me in quel momento non faceva sentire neanche il dolore, quindi ero convinto che il mio problema fosse una semplice frattura alle gambe. Quando sono arrivati i primi carabinieri, poi il 118, abbiamo fatto in modo da togliere la calotta, fare tutti quei piccoli interventi che sono previsti in fase di emergenza, quando mi hanno chiesto di uscire dal velivolo perché parlavo come se non avessi nulla, io ho detto guardate che le mie gambe non si muovono più, quindi hanno perfettamente capito per fortuna quale fosse il mio problema e hanno stabilizzato la colonna e quindi poi mi hanno tirato fuori dal velivolo. E poi da lì c'è stato un primo trasporto al pronto soccorso di Latina che era quello più vicino e poi un elitrasporto per me a Roma, al CTO che c'è un'unità spinale molto specializzata e il mio istruttore invece è andato a Perugia. È da lì un lungo periodo di ricovero prima e riabilitazione dopo. Voi avreste potuto salvarvi lanciandovi? Noi avremmo potuto lasciare il velivolo, ma non lo considero neanche un atto eroico, è un atto normale, si pondera quali sono le possibilità, quali sono le conseguenze di determinate decisioni e abbiamo pensato di andare giù con l'aereo per non creare problemi a niente e a nessuno. In quel momento può sembrare strano, ma con l'aereo governabile era la cosa più sicura da fare. Ecco, quindi questo passaggio che c'è veloce, la vita mia e la vita degli altri, come si fa a decidere? Lei ha detto adesso io non mi sento di aver fatto un atto eroico, noi ne abbiamo sentito parlare tanto di atti eroici, io però ho, per quanto riguarda la mia vita, per la prima volta l'idea di trovarmi di fronte a una persona che ha compiuto un atto eroico, quindi con emozione le dico come si fa a scegliere senza, quasi senza dubbio, oppure se il dubbio c'è nel salvare la vita degli altri e non la propria. Devo essere sincero, ci ho pensato tantissimo, soprattutto dopo. Il pensiero di poter lasciare l'aereo cadere sulla testa di qualcuno inconsapevole di quello che stava succedendo fa sì che ti dà ancora più convinzione e più forza la decisione che hai preso. Quando resti sul velivolo hai comunque coscienza di quello che stai facendo e puoi ancora fare qualcosa. Se tu lo lasci da lì, da quel momento in poi, cominciano tutta un'altra serie di probabilità che non sai cosa può succedere. E quindi sono convinto di quello che abbiamo fatto e che quello che abbiamo fatto è la cosa migliore che potevamo fare in quel momento. I pensieri poi nella riabilitazione, di che cosa si parla? Cioè di cosa si pensa? Si pensa se sfortuna, se invece è un percorso di vita che può aprire altre situazioni, sogni infranti, sogni da realizzare? In un primo momento sogni infranti e sfortuna. Tu dici tra tutte le cose che mi potevano succedere proprio questa, non poteva esserci un danno più leggero di quello che ti succede, perché dopo capisci che una lesione al midollo spinale non ti dà modo di sperare a tante cose dopo con il recupero fisico. In più sono rimasto allettato per tre mesi, perché la mia lesione era stata molto particolare, quindi tre mesi fermo in un letto è davvero tantissimo tempo dedicato al pensiero. Però dopo succede qualcosa, dopo ti confronti con gli altri e inizi a capire che non sei stato così tanto sfortunato, perché su 32 pazienti che all'epoca aveva l'unità spinale di Roma era sicuramente l'incidente più grave, il mio. C'erano dei ragazzi che avevano fatto dei tuffi. Tuffi al mare, stavo pensando adesso. Era una lesione cervicale molto più alta e molto più invalidante. C'era un signore, non me lo dimenticherò mai, era non più di mezzo metro da terra per raccogliere le ciliegie alla nipote e lui non aveva nessuna speranza di camminare, tornare a camminare. Quindi da quel momento in poi ho deciso che non mi dovevo più lamentare, che dovevo assolutamente dedicarmi alla fisioterapia e provarci con tutte le forze. Sicuramente ci ha messo le mani qualcuno dall'alto, io lo dico sempre, per il tipo di lesione che ho avuto. La mia famiglia mi è sempre stata vicino, non mi ha mai abbandonato per tutti i due anni e mezzo di riabilitazione che ho fatto. Anche l'oronautica militare mi ha dato l'opportunità di poter fare fino anche a nove ore al giorno di fisioterapia. Ma c'era anche il sogno militare infranto o no? Assolutamente sì, perché il requisito principe per ogni militare è quello di star bene fisicamente. Quello di un pilota militare è quello di stare ancora meglio. Quasi perfetto, quasi in condizioni perfette. Io direi che è perfetto, ovviamente non dei super uomini, ma perfetto per le condizioni di volo. E quindi mi rendevo conto da solo che già solamente la ricostruzione che avevo sulla colonna vertebrale delle vertebre fratturate e dei perni che mi avevano messo non mi avrebbero mai più consentito di volare. Al di là del mio problema nella deambulazione, insomma. Però ecco, poi c'è questa opportunità che noi siamo leader nel mondo. Stranamente l'Italia, spesso e volentieri noi siamo abituati a sottolineare aspetti negativi, invece questo è un aspetto assolutamente positivo che anche il principe Harry ha voluto capire il nostro meccanismo. Siamo l'unico paese al mondo che riesce a richiamare in servizio attivo i militari che subiscono delle lesioni permanenti per servizio ed in servizio. Non c'è nessun altro paese al mondo che ti lascia l'opportunità di rimanere in servizio fino al raggiungimento dei limiti d'età, quindi fino alla pensione. Quindi di essere militare al di là delle condizioni fisiche. Assolutamente, sì. Quindi è un'opportunità, ovviamente è quello che stiamo facendo in tanti, insomma. Negli anni 90 c'era solamente il tenente Connello Paglia, medaglia di oro a valore militare. Nel 2002-2003 sono rientrato in servizio anche io. Adesso però sono 22 persone nelle quattro forze armate richiamate in servizio proprio grazie al ruolo d'onore. E come entra lo sport in questa... Lo sport entra praticamente nella fine del 2013 da un protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e il Comitato Italiano Paralimpico perché il Ministro della Difesa ma i vertici militari si sono assolutamente accorti che lo sport può essere uno strumento in più per i nostri uomini e le nostre donne anche, che subiscono delle lesioni e uno strumento in più per dare dei nuovi obiettivi. Io le faccio una domanda e poi faccio entrare un ospite perché quando parliamo di sport attivo io ho bisogno di un sostegno. Lo guardava questa opportunità sportiva un po' in modo scettico o veramente un modo, cioè una possibilità a cui aggrapparsi? E faccio entrare Felice Pulici che lo sport ha fatto un'esperienza di vita forte sia come calciatore sia come dirigente attento ai valori al di là di tutto. Allora vi faccio rispondere a questa cosa dello sport e poi voglio anche delle curiosità che avrà lui. Ecco, lo sport come era visto inizialmente? In modo scettico dice addirittura io posso fare sport oppure invece aveva già capito le potenzialità? Io sono stato fortunato perché hanno scelto me in virtù della mia esperienza pregressa. Nel 2002 ho iniziato a nuotare, nuoto paralimpico ovviamente per fisioterapia e poi invece sono entrato in nazionale. Poi ho fatto un europeo, un mondiale, ho vinto nove titoli italiani e questa mia esperienza è servita ai vertici pro per capire l'importanza dello sport. Fare sport. Un po' da apri strada? Sì, fare sport, fare delle gare, capire che non hai un limite ma che hai delle altre potenzialità da poter sviluppare e da poter sfruttare e questo è stato la testa da rete che poi ha aperto la strada. Io un esempio che ho sempre fatto è in accademia quando ero perfettamente in forma, abile e ruolato si direbbe, nelle prove giniche che facevamo abitualmente, io notavo i 50 metri stile libero in 36 secondi più o meno. L'ultima gara internazionale che ho fatto erano 30 secondi per la stessa lunghezza, quindi forse avevo qualcosa in meno prima di farmi male, 6 secondi più veloce. Felice, un giorno lo sport ci dà storie di tristezza umana, di qualcuno che non confida nelle proprie possibilità e si è aggrappata a altre cose, un giorno invece ci dà queste forti espressioni di valore. Beh, questo ti fa capire come la struttura della persona che nel momento in cui succede qualcosa di particolare, che lo penalizza sotto ogni profilo, trova la forza, il coraggio e la volontà di intraprendere un percorso ulteriore di difficoltà, perché comunque ti fa capire come il desiderio di arrivare da qualche parte ed essere gratificato per come è, è fondamentale e importante per raggiungere i traguardi e gli obiettivi. Credo che il fatto che poi la stessa struttura militare abbia aperto a questo ulteriore tipo di rapporto per quanto riguarda il nuoto, che va oltre a quelle che è la federazione paralimpica, è un fatto importante perché comunque mette degli atleti, delle persone nella condizione anche di usufruire di questa opportunità, di questo spazio, di queste possibilità di apprezzare queste manifestazioni, anche le Olimpiadi, ma però soprattutto di essere gratificati come persone. Certo, io tra un po' vedremo, ripeto, un invito particolare con grandi personaggi, però l'avete visto anche dal nostro titolo qua in Vitus Games, due grandi personaggi, Principe Harry e Michelle Obama. Ci dice il perché del loro coinvolgimento, in che senso? Beh, gli Vitus Games sono dei giochi che ha voluto fortemente il Principe Harry e ha voluto dare un'opportunità anche lui ai militari inglesi perché ha capito anche lui la forza dello sport. E da qui l'Invitus Games, quindi ha coinvolto tutta la famiglia reale, ha coinvolto la Royal Foundation che raccoglie fondi proprio per dare questa opportunità di crescita ai propri ragazzi. E la prima edizione l'abbiamo fatta a Londra. Quindi è chiaro che c'è qualcosa particolare. E quindi è stato la famiglia. E voi l'avete anche incontrato. Lo abbiamo incontrato più volte. Il Principe Harry si può dire che è anche un nostro fan. Noi abbiamo tantissime foto e anche lo abbiamo coinvolto in un Forza Italia insieme a noi. Ma che tipo è? Perché insomma da alcune sue prove ne abbiamo un'immagine un po' particolare. È cresciuto tantissimo. È cresciuto tantissimo e è cambiato tantissimo. In questo progetto lui crede fortemente. E non è una persona che lo sta facendo per cambiare la sua immagine ma lo sta facendo perché crede realmente. Lui, non dimentichiamolo, è stato un ufficiale della Royal Air Force. E ha apprezzato servizio anche in Afghanistan. E ha visto diversi dei suoi colleghi non tornare con le proprie gambe a casa. Quindi è per questo che lui crede fortemente. in questo progetto. Nel primo incontro che noi abbiamo avuto con il Principe Harry è stato molto formale. Del resto lui era anche in uniforme e veniva in visita in Italia da principe d'Inghilterra. Il secondo incontro che abbiamo fatto, quello di Invictus Games, lui diventa Harry il promotore appunto degli Invictus Games ed è uno di noi. Lui sta con tutti gli atleti. Non si sottrae mai a una foto, a una stretta di mano, a un saluto, a un saluto. Stiamo vedendo però le cerimonie degli Invictus Games del 2014. Io vi voglio far vedere adesso, è breve ma è molto interessante perché è uno spot praticamente, uno spot girato dal Principe Harry e con degli ospiti particolari, con dei protagonisti molto autorevoli, particolari. è girato in inglese ma ci sono i sottotitoli e proprio per annunciare questi giochi che ci saranno a Orlando in Florida. Se lo possiamo vedere, così vediamo. Prego, sentiamolo, vediamo. questi sono tutti gli individui che hanno fatto l'anno scorso l'anno scorso. E l'amera l'amera qui è stato incredibile forte. L'amera è molto vicino, non? Oh, un messaggio? Oh, da Michele. È molto amicinante. So, vogliamo guardare insieme? Sì. 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 Vabbè, è particolare, voglio dire, sicuramente che sono coinvolti ai grandi livelli per lanciare... Guardiamo anche da dove parte questa capacità di apertura sotto questo profilo, sempre dall'Inghilterra, che sotto il profilo della disabilità è sempre comunque la struttura prima in assoluto. Perché ha questa capacità, questo desiderio, questa volontà, questo modo di essere, di favorire proprio il rapporto con le persone disabili. Beh, è vero. 46 Stockmanville fa scuola, insomma. Esattamente. Allora, andiamo un po' a parlare della nazionale, perché noi ci teniamo. Allora, non c'è solo Marco Iannuzzi, quanti sono i partecipanti che ci saranno a queste Invito in Game in totale e quanti saranno quelli della nazione italiana? Allora, in totale sono 650 atleti provenienti da 15 nazioni diverse. Quelli dell'Italian Team, ci piace chiamarlo, perché giochiamo anche noi con le lettere I am, che è il loro slogan ricorrente continuamente. Ci sono, no? Che vorrebbe dire? Ci sono, insomma, ci sono. Ci sono. Sono qui. Il padrone del mio destino, tra l'altro. Esatto, esatto. Saremo 17. Saremo 17. Un numero, sono convinto, ci porterà fortuna, perché a Londra nella prima edizione eravamo 13, quindi, come dire, abbiamo entrambi i numeri che solitamente non vengono visti. 17 per 9 discipline. 10 discipline. Beh, no, dopo quello che ha detto oggi il Papa Bergoglio, dobbiamo dire no, perché no, vabbè, 10 discipline, ecco, voi in tutte e 10 gareggerete? Allora, le discipline in realtà saranno 12, noi prenderemo parte a 10 discipline. A 10 discipline. Quindi, tra gli sport di squadra, il sitting volley e il wheelchair rugby, poi abbiamo l'atletica con un pochino tutti i suoi aspetti, il getto del peso e la corsa, dove veniamo meglio rappresentati, il tiro con l'arco, dove abbiamo preso invece una medaglia d'oro nel 2014, poi abbiamo il rowing, che sarebbe il canottaggio praticamente all'asciutto, no, a secco, che avremo una compagine di ben 11 atleti sul rowing. Dove portate medaglia? Tanto le sue ambizioni. Ha già vinto medaglie. Io ho vinto una medaglia d'argento nella scorsa edizione nel 50 Sile Libero. Adesso mi faccio trascinare le gare perché ho ancora questo spirito da atleta, nonostante l'età e nonostante non mi stia allenando. Non mi stia allenando per fare delle competizioni, insomma, quindi bisogna essere molto seri negli allenamenti, soprattutto quando si va a competere. Per noi è già una vittoria esserci e non lo dico, lo dico senza retorica perché è veramente una vittoria essere anche a Orlando, è uno sforzo che facciamo tutti, tutta l'organizzazione. Vabbè, però qualche medaglia si deve sbilanciare. Mi sento di dire che forse avremo due sport dove riusciremo a portare a casa qualcosa. Lei mi vuole portare a casa. E beh, che facciamo? Rimaniamo in nuoto. Mi sento di dire nel ciclismo e nel tiro con l'arco e forse anche nell'atletica. Una curiosità mia, prima di lasciare una curiosità, ce n'ha sempre tante il buon Felice, ma ci sono giochi paralimpici, voi avete un rapporto col comitato paralimpico. Assolutamente, sì. Perché ci sono anche gli Invitus Games? Gli Invitus Games sono dedicati ai militari, quindi sono dedicati ai militari che hanno subito delle lesioni. Tanto è vero che ci sono delle categorie agli Invitus Games che non vengono riconosciute invece dall'International Paralimpic Committee. Ho capito. Però voi fate parte anche, non so se lei, anche della Nazionale Paralimpica. Molti dei nostri ragazzi fanno parte anche della Nazionale Paralimpica. Quindi, così può fare lui, è una manifestazione propedeutica adesso a quella che potrebbe essere una convocazione ulteriore per le Paralimpiche. Diciamo che è una gara ufficiale, esatto, una gara ufficiale a tutti gli effetti, quindi un buon risultato. Sono i nuovi sitanti che hanno partecipato anche ai giochi paralimpici, indipendentemente da quello che potrebbe essere una manifestazione riservata esclusivamente ai militari. Assolutamente, infatti, non so, gli ultimi mondiali militari dove hanno partecipato per la prima volta in assoluto, i mondiali militari sono tenuti sicuramente dal Comitato Internazionale degli Sporti Militari. e per la prima volta, grazie anche in questo caso al nostro paese, hanno aperto ai militari feriti. Noi abbiamo avuto quattro atleti e tre medaglie. Quindi diciamo che i nostri ragazzi riescono sempre a smentire la... Ultimissima domanda. Prego. Scusami, ma perché escludi totalmente il nuoto, visto che tu... Scaramanzia. Sì, va bene. Lui sai che cosa fa? No. La specialità quella veloce, capito? Cioè arriva subito... Ma questo no? Te l'ha detto, ce l'ha detto. Te l'ha detto. Le strutture, ecco, avete vostre strutture o vi allenate in... Noi grazie al protocollo che abbiamo fatto con il Comitato Internazionale Paralimpico, diamo la possibilità ai nostri atleti di avere un doppio destramento. Questo fa sì che loro possano allenarsi dove risiedono, perché noi abbiamo atleti da tutta l'Italia, Sardegna, Lombardia, Calabria, Sicilia, ma veramente tutta l'Italia. E quindi loro possono allenarsi tranquillamente presso strutture a loro comode e poi possiamo utilizzare anche delle strutture militari, perché non dimentichiamoci che esistono strutture olimpiche militari. Il doppio destramento cosa si intende? che devono aderire anche ad una partecipazione con le società? Sì, sì. Anche perché gli atleti militari, per quanto noi siamo paralimpici e ancora agli esordi, gli atleti militari devono comunque lasciare spazio al campione di italiani a squadre, alle società di riferimento. Non so se lo sa, però fanno come gli olandesi negli anni settanta. Perché è vero che potete portare dei familiari a queste competizioni? Voi no, voi non li potevate portare! Ma solo l'altro li porta! E voi mai! È la forza degli Invictus Games. Loro ci tengono moltissimo a far capire qual è la forza dello sport attraverso anche le famiglie che sostengono i ragazzi e li sostengono sempre. Quindi è importante per loro avere dei familiari a seguito. perdonami, allora perché lo fanno? Perché c'è un momento emozionale che è straordinario e che quindi è una continuazione poi anche del gruppo, della famiglia che nel tempo avverte questa importanza e questa necessità di rendersi, primo, disponibili agli altri, secondo, raccogliere il più possibile persone che siano in grado comunque di portare il loro contributo e aiuto per questo tipo di situazioni. Questo? È questo quello che dice Felice? Il primo supporto ognuno di noi lo trova in famiglia, con i propri cari, quindi come dico sempre, il mio primo fan è mia mamma, quindi... Ho dimenticato una cosa... Che è anche una fan di TV 2000, quindi la salutiamo. Perdonami, ho dimenticato una cosa, sempre, sempre e comunque per tutti con il sorriso sulle labbra. C'è stato qualche episodio di qualche suo, dico compagno di squadra, ma con Militone se si può usare questa... che trovandosi in situazioni analoche e condizioni analoche era un po' scettico, aveva una ritrosia magari a cercare di riabilitarsi e voi, lei soprattutto l'ha convinto, c'è stato un ragionamento? È la squadra che convince. Noi siamo partiti in questo progetto, eravamo solamente otto persone. Oggi gli iscritti sono 38, gli interessati sono molti di più. È la squadra che fa veramente tanto perché fa capire che, prima di tutto, noi non cerchiamo l'eccellenza e non promuoviamo l'eccellenza dello sport. Noi promuoviamo lo sport. Purché si faccia sport, purché si capisca che abbiamo ancora delle possibilità, nonostante delle manomazioni fisiche e poi si torna a far parte di una squadra e per noi è importante questo. Quindi avere ancora la possibilità di rappresentare il proprio paese, avere ancora la possibilità di essere in un gruppo, non siamo più in un reggimento o in uno stormo nel caso specifico, ma siamo in un gruppo, in questo caso un gruppo sportivo paralimpico e rappresentiamo al meglio il nostro paese con gioia, con orgoglio. Proprio sul finire una cosa le voglio chiedere. C'è anche in voi il pensiero, in questa seconda chance, in questa bella cosa che fate, per chi non ce l'ha fatta? Beh, assolutamente sì. Sono le persone che ci sostengono e spesso e volentieri le nostre medaglie sono dedicate sempre a loro. Allora io voglio fare una cosa, siamo in chiusura, col massimo rispetto, ma so che lo posso fare, perché c'è la bandiera italiana, in omaggio per tutti coloro che per quella bandiera hanno pagato, lei ha detto una cosa, ha detto, dice io, ho detto tornerò dal Papa in piedi. Allora io vorrei concludere questa trasmissione in tutti in piedi, per un omaggio a chi ce l'ha fatta, a chi così degnamente ci rappresenta. Grazie a tutti, ci siamo lunedì con lo sport alle ore 19. Grazie a tutti.